3, 2, 1... Potete vedere come Taylor Tweet prima del trucco, quando si sveglia la mattina. Poi truccata, diventare. Fa così. Ecco, brava. 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 Grazie. Siamo qui con tanti amici, è sempre bello ritrovarsi in questi set così artistici. Dove è l'arte, soprattutto. Eh, sta venendo figo, adesso... Aspetta, devo mettermi un po' il vestito, argentà. Ed è lì, tipo di cascalardi. Ragazzi, siamo quasi pronti. Lui è Willy. L'astronauta si va a cambiare, vi porterò sulla luna insieme a me. Che cosa deve essere questa cosa? Interstellar. Madonna, ragazzi, è veramente scomoda. Non ditelo a Karin, che c'è uno strano. Cosa ne pensa di tutto questo, di questa giornata? È bello, io sono un anziano che guarda, soprattutto da due ore... Guarda i lavori, no? Così. Eh. Ok, Luci. Stiamo per entrare in scena. Allora, quando ti parlo devi guardarmi negli occhi. Io la guardo anche negli occhi, però non è che possiamo poi fare... Cioè, io fino a un certo punto. Però molto bello. Allora, è stata un'idea, diciamo, del cazzo. Perché mettere insieme tutti questi youtubers e farli fare cose che non farebbero mai nella loro vita. Può confermare? Sì. Ragazzi, YouTube ha ballato. Questo lo faccio con gli accametti, ma vi rendete conti? Avveramente. Sono proprio malata. L'arte è la parola chiave di quest'oggi. Sono troppo stanca, ragazzi. Eppure ho fatto solo due salti con il nastro. Sono degli uomini che stanno provando il lago dei cindimorti. Prego, inquadri. Prego, 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 prego. Sì, papà! gonfiati gonfiati vai la giriamo eh 3,2,1 vai bellissima bellissima non lo sapevo del cambio essere perfetto qui c'è una parpaglina non lo sapevo del cambio non lo sapevo del cambio no io sono due volte, due volte mette ritorno non lo sapevo del cambio 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 tira più sulla gamba se riesci ok guarda me ma il coglione arrossisco anche se voglia sconzo vai Ma dobbiamo fare colpi di da filmi, proprio da filmi, proprio da filmi, proprio da filmi. Andiamo. Ultimamente è proprio... E' l'ultima scena. Sono stanco, sentite il fiatone di un trentenne. Anche quando trovo, non so cosa si può dire questo.